Il poliziotto nisseno Mirko Scarantino ha ricevuto presso il centro sportivo delle fiamme oro di Spinageto tre lodi e un encomio. Si tratta di onorificenze della polizia di Stato, conseguite per meriti sportivi nel sollevamento pesi. Per Scarantino si tratta di un riconoscimento di grande importanza che attesta tutta la grandezza di un atleta e di un uomo che nel corso della sua carriera ha onorato al massimo delle sue possibilità lo sport italiano e il gruppo sportivo delle fiamme oro della polizia di Stato, con imprese a livello nazionale, europeo e mondiale, oltre che olimpico, davvero dimenticabili. Ecco perché il nisseno Mirko Scarantino ha ottenuto queste onorificenze che ne attestano indiscutibilmente il merito, ma anche lo spessore di colui che ha ragione e costituisce uno dei più grandi atleti dello sport italiano in quest'ultimo quindicennio. Aver ricevuto tre lodi e un encomio solenne dalla polizia di Stato mi rende felice ed orgoglioso. Sono stati i 15 anni più belli della mia vita dove per meriti sportivi sono riuscito a coronare i miei sogni, a vincere tanti titoli europei, medaglie mondiali e a partecipare a ben due olimpiade. I miei progetti futuri adesso saranno quelli di allenare i giovani, crescerli e dargli una mentalità vincente, ma soprattutto farli diventare uomini. Sono felicissimo, voglio ringraziare le fiamme oro di Roma per avermi dato questo giusto riconoscimento, la polizia di Stato e voglio ringraziare la questura di Caltanissetta dove gestisco la sezione giovanile delle fiamme oro di Caltanissetta con bambini giovani che vogliono crescere e vogliono arrivare a coronare un sogno, quello delle olimpiadi.